successo netto del Torino sul Catanzaro per 3 a 0 e grande giornata di Pulici come Goleador, tre reti per l'ala sinistra del numero 11 del Torino. La linea al nostro amico Patti. Eccomi Valente, il Torino si è concesso un doppio tris, cioè una tris di vittorie nelle ultime tre partite di campionato e una tripletta personale del suo Goleador Pulici. Dobbiamo dire subito che il Torino sembra aver facilmente finalmente ritrovato l'antica vena, mancava ancora oggi un suo giocatore, precisamente Salvadori, ma i Granata hanno dato vita a un incontro molto vivace che la difesa del Catanzaro ha annullato per la prima mezz'ora. Poi dopo aver ceduto con un gol di Pulici tutto è stato molto più facile per il Torino che nella ripresa ha ottenuto altre due reti e naturalmente per il Catanzaro non c'è stato più nulla da fare. Vedremo ora, fra poco, alcune immagini di questa partita, cioè fase iniziale e poi subito la sequenza dello show personale di Pulici. Ecco la solita tifoseria del Catanzaro ed ecco la prima azione. Testa di Pulici, Pulici che è preceduto da Turone e Menichini e palla sul fondo. Subito dopo Bullo dal fondo, testa di Ranieri e tiro da lontano di Zaccarelli, para Mattolini. C'è una lunga azione offensiva della Torino che è iniziata da Claudio Sala che è conclusa da Greco con un tiro a fil di traversa. Poi al 31esimo la rete, Patrizio Sala, stop di destro e giravolta di sinistro per Pulici e Mattolini abbattuto. Nella ripresa Pulici al settimo minuto, segna ancora, passaggio di Graziani e di sinistro facilmente in sacca. Ancora Pulici si presenterà fra poco in area, verrà affrontato da tre avversari e poi messo a terra. È rigore che lo stesso Pulici questa volta realizzerà, fra poco lo vedremo, di destro. Ecco il tiro da dischetto e Pulici che di destro batte Mattolini. 3-0. Da Torino è tutto, a te la linea.